In una recente intervista esclusiva con Sky Sport, l'icona del calcio italiano Aldo Serena ha svolto un'analisi completa e appassionata dello stato attuale dell'Inter, approfondendo gli aspetti individuali dei giocatori e le dinamiche generali della squadra. Questa conversazione illuminante ha portato alla luce una serie di spunti affascinanti che meritano un'attenzione dettagliata. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti di nuovo. Se sei nuovo qui, voglio dirti che sei il benvenuto su questo canale. Qui pubblichiamo le ultime notizie aggiornate dall'Inter. Quindi non perdete tempo e iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video, in questo modo verrete avvisati ogni volta che escono nuove novità qui. Partendo da uno sguardo penetrante al fiore all'occhiello dell'Inter, Aldo Serena ha dedicato parole di elogio a Lautaro Martinez, definendolo, il centravanti più capace dell'intero campionato. Nelle parole di Serena, Lautaro è cresciuto notevolmente nel suo periodo all'Inter, trasformandosi in un attaccante prolifico che contribuisce in modo significativo al conteggio dei gol della squadra. Questa è una notevole testimonianza della sua evoluzione come giocatore. Anche l'approccio difensivo dell'Inter non è passato inosservato. Aldo Serena ha sottolineato con ammirazione che finora la squadra non ha subito gol in questa stagione, a testimonianza indiscutibile della sua organizzazione difensiva. Questo aspetto solido della squadra è degno di applausi, poiché dimostra una notevole coesione difensiva. A livello di centrocampo Serena ha fatto un'affermazione audace, l'Inter ha il centrocampo più forte d'Italia. Ha puntato sull'ascesa di frattesi come possibile nuovo Niccolò Barella, lasciando intendere che il giocatore sta sviluppando qualità che potrebbero dare ancora più spessore al già talentuoso centrocampo interista. Questa osservazione evidenzia la forza dell'Inter a centrocampo e il suo potenziale per dominare le partite sulla scena italiana e internazionale. Serena, però, ha espresso anche una possibile preoccupazione, concentrandosi sull'attacco dell'Inter. Ha fatto un confronto tra gli attuali attaccanti, Arnautovic e Turam, e i loro predecessori, Lukaku e Dzeko, sottolineando che la coppia attuale potrebbe non possedere la stessa qualità ed efficacia dei giocatori precedenti. Questa analisi suggerisce che l'Inter potrebbe aver perso parte della sua forza offensiva in seguito alla partenza di questi giocatori di spicco. Aldo Serena, forte della sua vasta esperienza e conoscenza approfondita del calcio italiano, ha fornito un'analisi completa e approfondita dello stato attuale dell'Inter, individuando le aree in cui la squadra eccelle e quelle che potrebbero richiedere attenzione. Ora vorremmo sentire la tua opinione su questa analisi. Sei d'accordo con Aldo Serena riguardo al rendimento dell'Inter fino ad oggi e alle prospettive future? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. E forza Inter sempre!